Che tipo di rapporto c'è tra l'inflazione, l'aumento della popolazione e l'aumento in prospettiva della produzione ceriaricola, perché di quello che stavamo parlando, che cos'è l'inflazione? Il panettiere è l'ultima ruota del carro, nel senso che prima del panettiere ci stanno i produttori, i distributori, eccetera, quindi non è tanto una missione di avere cinque pagnotte, di avere un tot di quantità di farina da poter utilizzare per la panificazione e questa farina tu la compri, poi in mezzo c'è il mugnaio, c'è tutta una catena di lavoratori, per così dire, di professionisti, fino ad arrivare al contadino, qua la sevina e poi raccoglie. Quindi se aumenta il grano alla fonte, aumenteranno i costi lungo tutta la catena, fino al mugnaio e fino al sacchetto di farina, che adesso noi andiamo a comprare al supermercato, lì si ripercuote l'aumento del costo. Allora dal punto di vista economico, quindi questa è una regola molto generale, poi l'economia è estremamente complessa, però possiamo ragionare così per semplificare. Esiste il rapporto che determina il prezzo tra domanda e offerta, quindi è su questo concetto che dobbiamo lavorare, che cos'è la domanda e che cos'è l'offerta e perché i prezzi mutano, aumentano o diminuiscono, se parliamo di inflazione vuol dire che stanno aumentando, il rapporto al mutato equilibrio tra domanda e offerta. Quindi se aumenta la popolazione, aumenta che cosa? Bravo, aumenta senza dubbio la domanda e quindi se l'offerta non aumenta proporzionalmente alla domanda, i prezzi tenderanno a salire. Perché? Maggiore domanda vuol dire più bocche da sfamare, più gente mi chiede il pane, più i prezzi aumentano, si comprerà il pane e chi se lo può permettere. Certo, per noi pensare di non poterci permettere il pane è qualcosa di terribile, va da sì, però è una legge ferrea, nel senso che alla fine la farina a disposizione del panificatore, del fornaio, termina e il fornaio deve vendere quello che ha evidentemente impastato e che ha pagato in maniera più congrua perché i prezzi sono aumentati lì alla fonte. La questione è il rapporto tra domanda e offerta, quindi i cambiamenti possono riguardare sia la domanda che l'offerta, è sempre una questione di proporzione. Allora, se l'offerta rimane uguale, rimane 100 e la domanda diventa 150, supponiamo, prima era 100, la domanda raddubbia, arriva a 200. 200 unità di misura immaginaria, va bene? 100 la domanda, 100 l'offerta, la domanda diventa 200 perché la popolazione è aumentata, poi non è che aumenta da un giorno all'altro, aumenta nell'unità di tempo, quindi questi calcoli vanno fatti anche col passare del tempo, quindi dobbiamo introdurre anche la variabile del tempo, il calcolo si fa ancora più complicato. L'offerta rimane la stessa, i prezzi ad occhio e croce raddoppieranno, doppia la domanda rispetto all'offerta, i prezzi tendenzialmente raddoppieranno. La domanda rimane uguale, l'offerta si dimezza, così semplifichiamo anche il calcolo. È il caso del cacao? Il cacao è meno disponibile, c'è meno cacao sul mercato globale, mettiamola così. La domanda è la stessa, quindi la domanda rimane 100, la disponibilità di cacao da 100 è scesa a 50. Morale della favola, i prezzi anche in questo caso raddoppieranno, quindi si potrà permettere l'uovo di Pasqua chi è disponibile, chi ha la possibilità di spendere il doppio di quello che spendeva prima. Sempre che i prezzi radduppino. Stiamo facendo quindi dei calcoli estremamente astrati, poi in mezzo ci sono una serie di intermediari, una serie di fattori che adesso noi non possiamo calcolare che è troppo complesso, ma insomma adesso ci serve soltanto di capire quali sono i meccanismi fondamentali. E allora però ci sono altre funzioni di cui dobbiamo tener conto. Una di queste funzioni è quella della moneta, ovvero se aumenta la moneta in circolazione, perché una delle tesi storiografiche più accreditate fino a qualche tempo fa era la seguente, nel corso del XVI secolo i prezzi in Europa in generale aumentano, ma non di una volta, di decine di volte aumentano in maniera spropositata, anche a causa, o soprattutto a causa dell'ingente quantità di argento e di oro, ma principalmente di argento, che viene dalle Americhe. Perché? Perché le monete si fanno con l'argento, ancora all'epoca non si utilizzavano le banconote, quindi il valore della moneta era determinato dalla quantità di argento contenuta nella stessa moneta. E vi ricordate che svalutare significa diminuire la quantità di metallo nobile nel conio della moneta. Quando nella zecca diminuiamo la quantità di argento, le monete si svalutano. Perché? Perché il valore della moneta è collegato alla quantità di metallo nobile, e la nobiltà e il valore del metallo è determinato dalla sua rarità. Ora, se la sua rarità diminuisce, nel senso che grandi quantità di argento inopinatamente si mettono a disposizione delle zecche, perché provengono dalle Americhe, l'America è stata scoperta di recente, e anche le stesse miniere di argento, leggi argentina, il Potami, non si conoscevano prima. Quindi maggiore quantità di argento. La immettiamo sul mercato. Che cosa provoca? Questa era la tesi che, diciamo, fino a qualche tempo fa andava più per la maggiore. Anche se in realtà qui parliamo di fattori che si sommano insieme, si relazionano insieme. Da una parte abbiamo l'aumento della operazione, abbiamo anche l'aumento di disponibilità dell'argento e dell'oro. Poi l'offerta va crescendo, ma non gliela fa stare appresso alla domanda. L'offerta di cereali intendo dire. Qui parliamo di pane, che tutto il resto è superfluo. Parliamo fondamentalmente di pane. Più moneta e più domanda. L'inflazione aumenta o diminuisce? Aumenta. Aumenta sempre di più. Ammettiamo che la domanda e l'offerta rimangano pari, cento e cento. Quindi che la popolazione non cresca, ma che cresca la quantità di argento e di moneta in circolazione. I prezzi aumenteranno o diminuiranno? Con la domanda ferma, nel senso che il numero di bocche da sfamare, grossomodo è lo stesso. Aumenta comunque. Perché aumenta comunque il prezzo al consumo? Perché aumenta il valore della moneta. No, perché diminuisce il valore della moneta. Se c'è maggiore disponibilità di liquido o di moneta in circolazione, sai qual è la novità? Quel pezzo di pane o quel bene economico te lo faccio pagare di più. Te lo faccio pagare di più perché tu hai maggiore disponibilità di denaro. Quello che dice Elena è estremamente interessante perché introduce un altro fattore di cui dovremmo tener conto e di cui si parla poi nel paragrafo terzo di questo capitolo, cioè il problema dei redditi. La questione è la seguente. Se aumentano i prezzi al consumo? Perché è aumentata la popolazione? Perché è aumentata anche la quantità di denari in circolazione? La produzione sta più o meno aumentando, ma non così velocemente. I redditi? I redditi qui riguardano fondamentalmente quelli dei lavoratori salariati. Allora, tu guadagnavi cinque monete nel tuo lavoro, tu che facevi, che ne so, l'operaio tessile, piuttosto che il mugnaio, non lo so, immaginate una professione X. Cinque monete al mese, monete X anche qui. Con quelle cinque monete che erano il tuo stipendio, il tuo salario mensile, tu prima potevi permetterti di comprare una certa quantità di pane per sfamare la tua famiglia. Adesso, se i prezzi aumentano, ma il salario rimane lo stesso, diciamo, i prezzi raddubbiano, il salario nominale rimane lo stesso, ti potrai comprare la metà della quantità di pane che ti compravi prima. E abbiamo delle fonti che ci parlano di questo. Oppure, i prezzi aumentano, aumenta anche il tuo reddito un pochino, hai più denaro in tasca, però il denaro si è comunque svalutato. Se i prezzi sono raddoppiati e il salario è cresciuto solo del 10%, mentre i prezzi sono cresciuti del 50%, tu non gliela fai a mantenere lo stesso range di consumo che avevi prima, stesso stile di vita che avevi prima, a cui parliamo poi di mettere il pane in tavola, di comprarsi questo o quel vestito firmato, o di pagarsi a rate l'automobile, non è questo il punto. E quindi i salari, e questa è una crisi che si diffonde nel corso del XVI secolo, i salari non gliela fanno stare appresso all'aumento dei prezzi. Vuoi a causa dell'aumento della popolazione, quindi dell'aumento della domanda complessiva? Vuoi perché c'è più denaro in circolazione, più argento in circolazione e quindi anche il valore della moneta è in parte svalutato? Vuoi per tutta un'altra serie di fattori che possono anche essere fattori microeconomici, cioè fattori locali, noi stiamo adesso ragionando in generale, ma in realtà l'economia è complessa perché è complessa la società umana, quindi ogni regione d'Europa o ogni provincia di una medesima regione ha magari situazioni diverse. Vuoi per tutti questi motivi? I salariati evidentemente si impoveriscono, quindi in proporzione uno che all'inizio del Cinquecento aveva un tot di denaro, quindi poteva permettersi un certo stile di vita, cinquant'anni dopo non lui, suo nipote vedrà le sue prospettive di vita e di consumo decisamente diminuite. Tu dici il denaro dove va a finire? Allora chi è che evidentemente può maneggiare il denaro e può adeguare in automatico le sue entrate rispetto al costo della vita. Il salariato no, perché il salariato dipende dal datore di lavoro. Il commerciante? Sì, in certa misura sì. Il banchiere? Certo. L'industriale? Certo. Il latifondista? Quello che ha la proprietà della terra? Certo. Loro possono aumentare i prezzi. Ti faccio un esempio. Faccio un esempio. Allora, io sono un grande mercante. Grande mercante che ragiona in termini di domande e offerta. Commercio in grano. Ho un lotto di grano da piazzare sul mercato. Questo lotto di grano lo piazzo al prezzo che dico io. Dipende dal prezzo d'acquisto. Lo compro in Polonia? Io sono francese. Lo compro in Polonia? Oppure lo compro in Sicilia? Visto che il grano non me lo posso più far arrivare da Oriente. Prima i romani lo importavano dall'Egitto. Ora ci stanno gli ottomani, tra parentesi dunque. Altro grosso problema per esempio è quello della carne. I turchi conquistano anche l'Ungheria. Lì c'erano ampie distese di pascolo. Le mamme debbono pascolare. Ecco, quindi dobbiamo rinunciare anche a quello. Diciamo che io ho la possibilità di spostare un carico di grano. Questo carico di grano lo pago mille di una moneta, mille fiorini. È tantissimo, è una cifra enorme all'epoca. Lo metto sul mercato al prezzo che dico io. La domanda di pane ci sarà sempre. A me non importa se lei mangia, lui non mangia, se lui salariato ha più o meno soldi in tasca. Qualcuno quel pane se lo comprerà al prezzo che dico io. Va bene? Io aumento i tuoi prezzi. Quindi lo vuoi col grano? Chi lo vuole? Chi offre di più? Tu quanto offri? 1100? Tu 1300? Eh, te lo do a te 1300. Io mi tasco la differenza. Sono io che gestisco i prezzi in certa misura. Se la domanda aumenta, se io sono colui che gestisce una parte significativa dell'offerta, i prezzi li faccio io. Scusate, l'epoca dei vaccini, i prezzi li faceva il produttore, Pfizer, Big Pharma. Pagavamo noi, pagava lo Stato. Quanto è? 10 euro? 12? No, adesso è 15. Perché 15? Eh, perché lo dico io. Mi costa da 8? Noi che devo rendere ragione. Sono scuole di pensiero diverse. Una scuola di pensiero, quella che oggi, diciamo, va più per la quale, quella che si chiama neoliberista, prevede la totale libertà del mercato. La parola d'ordine è privatizzare, privatizzare, privatizzare. Via lo Stato da ogni tipo di attività economica. Via l'intermediazione dello Stato. Lo Stato deve essere il più light possibile. Questa è la filosofia, diciamo, che oggi è passata. Chiaro, dei vizi evidenti, se non staremmo tutti quanti meglio, e forse anche delle virtù, dipende dai punti di vista, ma insomma adesso... Oppure c'è la filosofia opposta, filosofia, filosofia politica, strategia politica, di politica economica opposta, che è quella statalista. Sono due modelli astratti, eh? Il modello in cui lo Stato, lo Stato forte, lo Stato veramente sovrano, quindi nulla di più lontano dalla situazione attuale, perché il nostro Stato non è sovrano. Non è sovrano sotto vari punti di vista, a cominciare dal discorso del signoraggio bancario. Ne abbiamo parlato a suo tempo, cioè la Banca d'Italia non emette più moneta, è controllata dalla BCE, è la BCE che stabilisce i tassi di cambio. Noi non siamo sovrani, perché non abbiamo una moneta. Prima eravamo sovrani perché avevamo la lira e la Banca Centrale d'Italia, su indicazione della politica, poteva aumentare o diminuire il valore, poteva inflazionare la moneta, poteva fare dei giochi politici significativi che oggi non può più fare. Detto questo, quindi dovremmo essere sovrani. Però ammettiamo che effettivamente lo Stato sia assolutamente sovrano e che possa imporre, calmierare i prezzi per legge. Andremo incontro ad un sistema, per altri versi, squilibrato, perché comunque l'economia ha le sue leggi, che sono relative, per esempio, al tempo meteorologico. Parliamo di agricoltura? Tempo meteorologico, produzione, accaparramento delle risorse, gestione delle risorse. Tutto questo è difficile da gestire. Non è che lo Stato può dire, benissimo, faccio un esempio banale così ci capiamo, torniamo indietro nel tempo, alle prime città. Non è che lo Stato, chi governa la città, non è che può dire, allora il prezzo del pane d'ora in poi è 100 e rimarrà sempre 100, perché mettiamo che quell'anno una pioggia fuori stagione, un allagamento di mezzi, le risorse effettive di grado. Non è che io per legge posso stabilire che il pane costerà di meno o posso andare da mangiare a tutta la popolazione. Evidentemente chi ha maggiori risorse si prenderà il pane e gli altri moriranno di fame. Non lo posso imporre per legge, posso razionarlo, ma fino a un certo punto. Cioè lo Stato non può intervenire su tutto, è impossibile. Una parte può in qualche maniera destinarla, può ridistribuirla, e come lo ridistribuisce lo Stato? Come lo distribuisce ieri come oggi? Attraverso le tasse. Le tasse dovrebbero essere impiegate anche per in qualche maniera ridistribuire la ricchezza, nel senso che io ho un reddito abbastanza alto, pago un tot di tasse e queste tasse lo Stato, almeno una parte di queste tasse, lo Stato le dovrebbe destinare a rimpinguare il tuo reddito, perché tu hai un reddito particolarmente basso, oppure hai una situazione di disagio economico a casa, hai una persona gravemente malata, che non può lavorare, una persona anziana. E allora lo Stato in quel modo lì può intervenire, sempre che decida di destinare una parte delle tasse al sociale, se le destina in armi o in guerra o in altre faccende evidentemente no. Lo Stato può intervenire in questa maniera, ma non può imporre, salvo situazioni di estrema emergenza, non può imporre un prezzo calmierato per. Può agire sulle tasse, può dire benissimo le tasse sul pane le diminuisco, e però se diminuisco le tasse sul pane, e noi paghiamo le tasse anche sul pane, è ben inteso, sulle medicine, provate ad andare a avvicinarvi in farmacia e a comprare una medicina che non viene passata dalla asla, dalla mutua, cioè praticamente quasi tutta, salvo qualche medicina, salva vita. 30 euro, 50, 100 euro, e lì se c'hai soldi te le compri, se no stai male. Punto. Lo Stato lì non può intervenire, o non vuole intervenire evidentemente, poi dipende anche lì, tu potresti tassare di più le rendite, non dico dei farmacisti, i quali pure hanno evidentemente le rendite più o meno elevate, ma delle case farmaceutiche, far pagare loro più tasse e ridistribuire socialmente l'utile che va nelle tasche delle case farmaceutiche. Queste sono manovre che lo Stato può fare, però deve essere uno Stato sovrano, il nostro Stato oggi non è sovrano, dunque, non ti aspettare che facciano dei manovri a vantaggio della povera gente, o diciamo del popolo, concetto lato. Quindi lo Stato può intervenire soltanto a determinate condizioni, però ben inteso uno Stato che decida di imporre dei prezzi per legge, trascurando quelle che comunque sono dinamiche naturali dell'incontro domanda offerta, e andrebbe incontro anch'esso alla bancarotta. Non è una situazione semplice da gestire, quindi libero mercato da una parte è cosa buona e giusta, cioè l'incontro libero di domanda e offerta è quello che produce effettivamente i prezzi. Lo Stato dovrebbe comunque, l'autorità intermedia dovrebbe comunque calmierare questi prezzi, ridistribuire la ricchezza regolamentare, può farlo entro certa misura. Però non può fare, non esiste l'imposizione benissimo, senti, da domani al bar il cornetto può costare solo un euro per legge, se lo fai pagare un euro e venticentesimi sei fuori. Chiaramente ci sono dei range, se tu vai in un ristorante, in un posto pubblico e paghi non una volta di più, ma 50 volte di più puoi provare a sporgere denuncia entro certi limiti, perché lì, insomma, oltre un certo livello è truffa. Però questi sono casi molto particolari, lo Stato non può intervenire, non può, non vuole intervenire, o non ha la possibilità, o non ha il potere di farlo oggi, stiamo parlando di oggi, non del XVI secolo. Il XVI secolo lo Stato dal punto di vista del sociale è zero, cioè lo Stato non interviene nel sociale, al limite la Chiesa per i poveri può fare qualche opera di carità e la comunità, ma non è lo Stato, lo Stato si occupa di politica estera, di guerra, di sorvegliare i confini, di ordine interno, di burocrazia, di questo si occupa lo Stato, ma non si occupa di pensioni, di salute pubblica, di ridistribuire la ricchezza, eccetera, eccetera. Ma non è che è difficile, è anche una questione di volontà politica, quindi anche la sua domanda sia una domanda insensata, la sua domanda ha senso e entra in una certa misura dal punto di vista politico, se il sistema fosse diverso, ma non lo è, quindi con i secoli ma, non si scrive né la storia del passato né tantomeno si capisce la realtà presente. Già 30 anni fa, prima che voi foste concepiti, 30 anni fa, prima che finisse l'Unione Sovietica, quando ancora eravamo in una situazione diversa, quella della guerra fredda, quando ancora il neoliberismo caloppante che si è imposto, a partire dagli anni 80, alla metà degli anni 70, già una certa ridistribuzione della ricchezza ci stava, cioè esisteva uno Stato impegnato nel sociale e l'impegno nel sociale era significativo, basti pensare al fatto che, certo, c'erano problemi, ci sono sempre stati e ci saranno sempre, però se stavi male e andavi in ospedale avevi un servizio di primo ordine, dipende poi dove andavi evidentemente o come capitavi, però non dovevi sborsare una lira. Oggi siamo arrivati alla situazione attuale in cui di fatto il livello di tassazione è uguale a quello di prima, anzi è decisamente aumentato, ma i servizi che noi gente comune riceviamo, noi cittadini riceviamo in cambio dello Stato sono quasi azzerati, nel senso che io continuo a pagare, noi continuiamo a pagare per la sanità regionale le stesse tasse che pagavamo, anzi ne paghiamo ancora di più, ma i servizi che abbiamo in cambio sono zero, sono scarsissimi, nel senso che se hai soldi ti operi e ti salvi la vita o ti puoi permettere certe cura? Se non ce l'hai entri in una lista d'attesa, magari fra due o tre anni ti ricevono, chi può permetterselo? Chi può permettersi di aspettare quel tempo? Dunque anche qui possiamo misurare il discorso, vedete come lo possiamo misurare? Non è soltanto oggi, l'uomo del Cinquecento questo problema non se lo pone nemmeno perché non ha nessun tipo di assistenza, non esiste proprio il concetto, noi però ce lo poniamo, allora io posso anche mantenere i salari stabili, ti do sempre la stessa cifra, tuttavia ti fornisco dei servizi pubblici assolutamente adeguati, scuola, università, parliamo fondamentalmente di istruzione e sanità e altri servizi vari, quindi tutto di primo ordine e io non ho bisogno di spendere tanti soldi, mezzi pubblici che funzionano bene, al diavolo l'auto privata, se mi funzionano veramente bene, se mi fai la linea ferroviaria a me pendolare che mi porta ad abbracciare a Roma in mezz'ora, io l'auto, me la dimentico a casa, non la uso più, quello è un servizio pubblico, se i farmaci da banco me li fai pagare dei prezzi accettabili o se sto male non pago nulla o pago soltanto un ticket simbolico, e beh quei 1000 Euro di stipendio, dico per dire da quei 1000 Euro di stipendio non debbo tirar via 200-300 Euro di farmaci al mese se sto male, capite? Questo è un altro fattore importante, cioè anche qui il salario, il valore nominale del salario è relativo a quello che poi debbo farci con quel salario e l'aumento dei prezzi al consumo è sui beni essenziali, c'è poco da discutere, sui beni superflui posso anche discutere, posso anche dentro certi mesi farne a meno, il valore del salario è proporzionato anche al servizio che mi viene o non mi viene reso dallo Stato, perché l'idea dello Stato light è che il singolo cittadino, il singolo contribuente paghi una cifra poco significativa di tasse, in modo tale che i soldi ti rimangono in tasca e da solo ti paghi, sempre che tu abbia un lavoro decente, la sanità e la scuola. E noi oggi ci troviamo in una situazione in cui paghiamo le stesse tasse di prima, ma non abbiamo più i servizi di prima e questa è un'altra cosa importante, quindi se lo stipendio te lo raddoppio, ma nel frattempo ti ho tolto tutto, in termini di assistenza pubblica, di denari che lo Stato destina a questo, quel settore sociale fondamentale per la vita dei cittadini e tutti noi. evidentemente il singolo cittadino andrà, singola famiglia andrà sempre peggio, anche se aumenta nominalmente le entrate. Ti faccio l'esempio dell'asta, l'asta, io ho qui una torta, una sola, e ho fatto dieci fette di torta, voi siete tutti quanti affamati, io ho qui cinicamente, le leggi sono fredde, ciniche, sono matematiche e sono cinici anche i personaggi che fanno questo gioco in un certo senso. Io qui ho dieci fette di torta, il valore della fetta di torta dipende dalla richiesta, non la vuole nessuno, a un certo punto per sbarazzarmene dovrò regalarla prima che va male. Se invece si crea una fila di persone che sta lì fuori, tutti vogliono una torta perché è particolarmente gustosa quello che ti pare a te, io la torta la vendo al prezzo che dico io, la vuoi? Eh ma lì dall'altra parte costa dieci e infatti l'ha comprata da un'altra parte, qui costa venti, se la vuoi è venti, se no vai da un'altra parte, ma non c'è un'altra parte, non so se mi spiego, una lattina di Coca Cola, se io la prendo al supermercato mi costa che ne so, adesso i prezzi non li so, mettiamo un euro, se vado a comprare una lattina di Coca Cola, fredda, in uno di quei camioncini che gira, ai fori imperiali, d'agosto 40 gradi all'ombra, la pago 10, 20, non me ne dai 10, non ce l'hai? Eh pazienza, tanto la fila per venderla ce l'ho, uno può dire vabbè ma io sto pagando anche i soldi del frigorifero ambulante, sto pagando le tasse per il mantenimento dell'attività, sto pagando anche il mio lavoro che te l'ho portata fino a qui, quindi entro certi limiti ci può stare, ma poi fondamentalmente ci sta il fatto che lì io non ho concorrenza, o così o pomì, quindi se non hai 10 euro vai a bere la fontanella pubblica, ammesso che la trovi, una volta a Roma ci stavano le fontanelle pubbliche, ma non ci stanno più nemmeno quelle, quindi la logica è esattamente questa, domanda, offerta, l'offerta è questa qui, la domanda, se la domanda è sottostimata rispetto all'offerta, se io ho abbondanza di un determinato materiale, i costi, i prezzi diminuiscono, quando ci riscaldavamo con il gas che proveniva dalla Russia, di gas, ne hanno una riserva praticamente infinita, in realtà finita, perché tutto è finito, ma insomma, il gas che veniva da lì costava molto di meno sul mercato globale, sul mercato europeo, perché la quantità di gas era effettivamente spropositata, quindi loro volevano permettersi, vincendo la concorrenza di altri fornitori, di di darci un gas di buona qualità ad un costo dimezzato rispetto a quello che avremmo preso, per esempio dagli Stati Uniti d'America. Bene? In una logica di libero mercato è così, era così prima, però la logica di libero mercato è anch'essa una menzogna, nel senso finché mi torna utile, viva il libero mercato, quando non mi torna utile al diavolo il libero mercato, Martina, che faccio? Faccio saltare in aria il Nord Stream, io, Stati Uniti d'America, CIA, faccio saltare in aria il Nord Stream, il gas a metà del prezzo da lì non ti arriva più, tu lo devi prendere per forza da me e ti costa il doppio o il triplo, morale della favola, chi lo paga il doppio o il triplo? La nonna di Diana, la quale abita lì, è la bolletta del gas e gli si raddoppia o gli si triplica, punto, semplice, semplice così. E chi è che decide questo? Lo decidono ovviamente situazioni di politica internazionale, comunque la logica è sempre, guardate, cinicamente, domanda e offerta. E lo stesso discorso della lattina di Coca-Cola, chi te la fa arrivare fino a lì? Se andate in certe zone, quello che ti porta la lattina di Coca-Cola in quello scavo archeologico, in questa e in quella località d'Italia, è magari l'amico dell'amico del mafioso locale, diciamo così, generalizzato. Lui ci può andare lì e farà il prezzo che decide, l'altro non può fargli concorrenza, semplicemente perché se non paga il pedaggio, la tangente al mafioso locale, lì la lattina di Coca-Cola non la può vendere. Ci sono quindi anche queste dinamiche, vedete che la realtà è estremamente complessa, affari prezzi. Ecco, quindi adesso, però così la lezione diventa troppo complessa, ma giustamente voi mi chiedete. Ora, quello che sta avvenendo oggi, stanno avvenendo una serie di eventi economici, non oggi, oggi data, 18 marzo 2024, è una tendenza che va avanti ormai da molti anni, diciamo da almeno 3-4 decenni. La situazione è questa, i salari sono fermi al palo, per così dire, cioè il valore nominale dei salari, dei lavoratori dipendenti, è sempre lo stesso. Le tasse sono le stesse o addirittura aumentano. I prezzi al consumo, a loro volta, stanno aumentando. E quindi chi è che può permettersi di consumare determinati beni? Può permettersi di consumare determinati beni chi è in grado di adeguare le proprie entrate rispetto all'aumento dei prezzi. Cioè, magari commercianti, imprenditori, poi i modi si trovano, non sempre sono modi legali, sono i padroni del gioco. Chiaro che un lavoratore dipendente che ha un salario fisso, anche se questo salario nominalmente viene aggiornato ogni 3-4 anni, ma nel frattempo l'inflazione è aumentata di 10 punti percentuali, il tuo salario è aumentato di un punto percentuale e tu sei più povero, diciamo che il tuo potere d'acquisto nel giro, non so, supponiamo di 3 anni, è sceso al 90% di quello che avevi 3 anni fa. Questo vuol dire che il tuo tenore di vita si abbassa. Poi si abbassa, dipende dal livello, nel senso che se tu hai delle riserve, quelle a noi italiani oggi ci debbano togliere queste riserve, sono fondamentalmente le case di proprietà, che ancora il 70% degli italiani pare abbia, e sono le pensioni che derivano, quelle ricchezze messe da parte che derivano dal vecchio stato sociale, dai nonni che vanno morendo. La nostra generazione vive un po' di rendita, se qualcuno ha messo da parte qualcosa, finché è una rendita, puoi andare avanti, diminuisce evidentemente, o vivi perché non paghi la casa. Allora, l'idea è quella, le case debbono perdere assolutamente valore, ce le debbono togliere e ce le l'Europa, l'Europa che è un'entità in mano a questi padroni del discorso, che non fanno certo gli interessi dei popoli europei, è una cricca terribile. L'idea qual è? Siccome le nostre case inquinano tutte e quattro, in particolare la sua, allora se tu non adegui alle norme europee, decidono loro, con il cappotto termico, con, decideranno loro, una serie di burocrazia. Non adegui la casa in cui abiti, il valore della tua casa crolla, crolla. Dunque, se la casa prima valeva, adesso 200 mila Euro, se non adegui, non la puoi ne vendere, ne la puoi affittare. E prima, o se prima la vendevi a 200 mila, adesso la vendi a 100 mila o a 50 mila. Se non hai soldi per adeguare, i soldi per adeguare non li vai a prendere. Vai in banca, chiedi un prestito in banca con dei tassi elevatissimi, e chi è che si può permettere dal suo macro stipendio di? Mettiamo che io me la posso permettere. Che cosa accade? Morale della favola? Io vivo a casa mia, continua a vivere a casa mia, ma devo fare un prestito dalla banca per potermi pagare l'adeguamento al discorso termico, in base a delle leggi che stabiliscono loro. Sto a casa mia e pago l'affitto, lo pago alla banca. Scusate, ma se io accendo un mutuo e chiedo i soldi in prestito alla banca per finanziare casa mia, perché la tasa di proprietà non ce l'ho, non voglio stare in affitto. chiedo un prestito alla banca che restituirò in 30 anni di vita, lavorerò per 30 anni come uno schiavo con i tassi che cambiano continuamente, quindi mi devi dare prima 700 euro al mese, adesso sono diventati mille, perché sai i tassi di interesse sul valore dell'euro sono aumentati e dunque mi devi pagare di più. Il tuo salario? Il tuo salario è sempre lo stesso, come mi vai a pagare? Se non puoi più pagarli, che succede? Hai pagato 10 anni di rate? Eh, mi dispiace, questa non è più casa tua, anzi non l'è mai stata, se la prende la banca. Lo stesso, se io devo creare, devo fare il cappotto termico e chiedo un prezzo alla banca perché mi costa 60 mila euro, supponiamo, e chiedo un prezzo alla banca e non sono in grado di restituirlo, la banca si prende anche la casa, che non è la mia, dei miei genitori, dei miei nonni, non la lascio, a mio figlio ne lascerò nemmeno la casa. È esattamente quello che stanno facendo e quello che voi perderete, noi tutti perderemo. E questo si può fare, si decide così, chi è i padroni del gioco, oggi è così, evidentemente. Quindi capite, anche il discorso del rapporto naturale tra domande e offerte è un discorso molto virtuale, molto generale, perché in mezzo ci sono una serie di fattori politici. Lo Stato può intervenire? Certo che lo Stato può intervenire, dipende da chi ci sta, lì, in mano, ha in mano le leve, il potere, che cosa decide e a vantaggio di chi. Oggi su 60 milioni di italiani 20 milioni, 10 milioni sono poveri, altri 10 milioni sono a rischio povertà. Il 5% delle famiglie ricche è diventato ancora più ricco, è la società dell'1% in Occidente, i ricchi sono ancora più ricchi negli ultimi anni. E quelli che erano classe media sono andati verso la povertà e diventeranno sempre più poveri, diventeranno sempre più poveri perché questa è la politica che viene fatta. Diventeranno sempre più poveri, perché sentivo, ecco, una mia collega, la figlia si è fatta male giocando al calcetto e se non hai 20, 25 mila Euro a tirare fuori per operazione al ginocchio, non ti operi al ginocchio, oppure ti operi fra sei mesi se ti operi al ginocchio, però signora ha fatto bene perché da qui a una settimana il crociato non andava più a posto e dunque se non ti puoi operare subito rimani invalido, rimani con un ginocchio a 20 anni che non cammini più bene. Allora ce li hai 20 mila Euro? Bene, non ce li hai? Non ti operi. Il discorso è semplice, semplice nella sua tragicità, è questo qui, oggi, però insomma, quindi il problema dei redditi ce l'avevano nel XVI secolo, ce l'abbiamo ancora noi oggi, ce l'avranno anche i vostri figli, le politiche si possono evidentemente fare politiche diverse, le politiche a vantaggio del popolo, a vantaggio della gente, diminuire la ricchezza dei ricchi 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 e ridistribuire la ricchezza, questo si può fare senza necessariamente passare a un tipo di economia puramente esclusivamente statalista, cioè libero mercato, ma un libero mercato con una vera libera concorrenza è cosa peraltro buona e giusta, perché stimola l'iniziativa dei singoli. L'iniziativa dei singoli, allora i due carretti che mi portano la Coca-Cola se la giocano alla pari e i prezzi là diminuiscono, non saranno 10, saranno magari 8, perché quello vicino fa 7, se invece vi sta un carretto solo, perché il carretto lo decide la mafia, carretto di Tizio piuttosto che di Caio, perché Caio lì non può venire, oppure glielo bruciano de notte. Adesso faccio un esempio di delinquenza comune, neanche il litorale, tutto il litorale nord del Lazio è infiltrato dalla Camorra, un negozio su tre te lo brucia, se non ti comporti come si deve. Ecco, allora per esempio la criminalità e lo Stato dovrebbe pensare alle criminalità, è un fattore che distorce il libero mercato, poi la libera concorrenza di che? Se da una parte c'è chi ha potere militare, militare, la forza, come i bravi di Don Rodrigo, dei promessi sposi, la forza, ieri come oggi, capisci, non è che l'economia sia una scienza, non è né una scienza esatta, anche se ci sono delle regole e noi possiamo fare dei ragionamenti, poi in mezzo ci sono una miriade di fattori di cui occorre tener conto, poi per non parlare della situazione a livello internazionale, ma credo, spero di aver risposto alle vostre domande. Se questo fosse uno Stato realmente sovrano e popolare, e parrebbe di no, se fosse uno Stato sovrano e popolare attraverso libere elezioni democratiche, con il concorso forte, significativo dell'opinione pubblica, potremmo riprenderci e far funzionare le cose in una certa maniera. Quindi come si può fare? Azione politica, se noi siamo protagonisti dell'azione politica, se non lo siamo, o stiamo qui, se qui il terreno si sta dissecando, o ci facciamo un mazzo tanto, piantiamo, lavoriamo la terra e facciamo in modo che fiorisca, oppure ci dobbiamo andare a trovare un altro pezzo di terra, come facevano i nomadi. Terzium non dato, a meno che non fai parte di quel 1% che... Grazie.